è sparito sapete cosa c'è in gioco non c'è più molta strada spari prima che può cosa si può dire di un uomo così tre mesi fa avete perso il drive con l'identità di ogni agente infiltrato nelle organizzazioni terroristiche in tutto il mondo 007 è il rapporto dove diavolo era finito? a godermi la morte ho solo una domanda perché non rimanere morto? si vergogna ad ammettere che perde colpi? non era M l'obiettivo volevano che lei lo vedesse benvenuto nel nuovo MI6 sono l'addettore armi sta scherzando spero Walter P.P.K.S. 9 mm corto codificata con la sua mano può usarla solo lei meno strumento per uccidere a caso più impronta personale Q 007 voglio incontrare il suo capo fin dove conosce la paura? fino in fondo ma non questa non come lui ma si guardi va a caccia di spie l'Inghilterra l'M6 l'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto che forse sarebbe morto ma Mina è stata molto cattiva due sopravvissuti questo ha fatto di noi tutti hanno bisogno di un hobby e qual è il suo? la resurrezione grazie a tutti la Grazie a tutti.